Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con la recensione pratica di Skin Gloves, parliamo dell'edizione 2012-2013, dotata di capacità interattiva a 10 litre, formata su base lana merino intrecciata con fili d'argento, vi permette in pratica in questo modo di interagire in totale libertà con il vostro dispositivo nel momento in cui volete comunque mantenere le mani in calde senza appunto dover estrarre la mano dal guanto per per esempio rispondere a una telefonata, mandare un messaggino o andare su Facebook e quant'altro. Questo è il prodotto, come vedete è uniforme come colorazione, elasticizzato nella parte finale, in questo modo si dovrebbe vedere in maniera decisamente facile, non ci sono appunto le zone finali delle dita colorate in modo diverso, in questo modo il guanto si mantiene dotato di buona eleganza, non è visivamente diversificato e quindi passa inosservato, in questo modo non è eloquente la sua destinazione d'uso, cioè tenere calde le mani e permettere comunque un'attiva interazione con dispositivi dotati di display capacitivo. Per facilità qui abbiamo un mela telefono, vedete io posso utilizzare il mio tradizionale polpastrello, ma posso appunto utilizzare anche il mio guanto. Vediamo quindi come analogamente sia possibile andare a effettuare lo sblocco, vedete che il mio tastino si sposta, ugualmente bene può essere fatto appunto con il secondo dito, possiamo comunque procedere, vedete che anche col terzo dito, anche col quarto dito, vedete che posso andare a spostare il mio cursore per quanto riguarda lo sblocco, anche per quanto riguarda il quinto dito. Analogamente sull'altra mano, inutile adesso utilizzare tutte le dieci dita, in questo modo riusciamo semplicemente a mostrarvi come tutte le dita appunto del guanto siano utilizzabili. Anche per quanto riguarda dispositivi tipo tablet, non solo cellulari, possiamo andare a utilizzare il nostro guanto con buona soddisfazione. Io posso andare a minare il menu, le applicazioni, posso andare in eventuali messaggi, posso anche andare a spegnere il mio dispositivo e far praticamente fruire il tutto senza problemi. Esiste ovviamente in diverse taglie, in diversi colori, sono acquistabili sul sito di Anycast Solutions, già da adesso, e risultano quindi indicati sia per uomini che per donne. Ragazzi, ragazzi, mettetela come volete, ma è decisamente una genialata secondo me. La demo termina così, in questo caso è semplice e veloce, il prodotto funziona, funziona bene, è morbido al tatto, quindi è piacevole anche da indossare, non punge, non è quindi fastidioso alla lunga. Secondo me è davvero un ottimo regalo. Se volete fare per esempio un pensierino, pochi euro appunto come spesa, secondo me è davvero davvero apprezzato da tanti. La demo si conclude così, non c'è altro da mostrarvi, io quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook e YouTube di Anymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quando andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragozzino.